Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come Manuel Bortuzzo e Lulu non sono più una coppia da alcuni giorni Vengono fuori nuovi sviluppi, ecco cosa ha fatto l'ex nuotatore In questa nuova edizione di Verissimo, Silvia Toffannin ci tiene compagnia anche di Domenica Ed è proprio nella puntata dell'8 maggio che la conduttrice ha avuto la possibilità di intervistare proprio lui, Manuel Bortuzzo Un ragazzo appena uscito dalla casa del grande fratello Vip 6 che ci ha fatto sognare Come ben sappiamo, è proprio all'interno del reality che l'ex nuotatore aveva trovato l'amore in Lulu Sillasi, relazione che purtroppo è finita da poche settimane Ed è proprio questo l'argomento affrontato di fronte alla Toffannin Un'occasione per Manuel di chiarire come sono andate realmente le cose, smentendo anche le voci che circolano sul padre E così Silvia Toffannin parte subito alla carica, chiedendo al suo ospite se è vero e che ha messo la parola fino alla relazione con Lulu Attraverso un comunicato stampa. Immediatamente l'ex Jeffino ha smentito affermando che, più di una volta, ha parlato con Lulu facendole capire che in quel modo le cose non andavano bene Cosa ha fatto Manuel Bortuzzo a Lulu.Silvia passa poi ad un'altra domanda, cercando di far chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto Manuel a lasciare la principessa Etiope Egli risponde. Proprio come leggiamo su Pudonna, che era più che certo che Lulu non era la ragazza adatta a lui Nonostante abbia cercato di andarle incontro in ogni occasione, pare che questi sforzi non siano stati sufficienti Da parte sua non c'era rispetto. Mi è crollato il mondo addosso Parole che dimostrano quanto Manuel avesse investito in questa relazione, al punto da aver messo da parte la famiglia e gli amici nonostante avesse molte faccende da risolvere Da tali parole è chiaro che le sue dichiarazioni sono diverse l'una dall'altra Più di una volta infatti Lulu se la si è, tramite Instagram, aveva affermato che il motivo della loro separazione era da attribuire al padre Un uomo fin troppo presente e pressante.A questo riguardo Manuel ha voluto chiarire, per sempre, la situazione affermando che la sua famiglia ha sempre rispettato la sua privacy Manuel resta senza parole nel momento in cui, Silvia Toffanin, afferma che Lulu ha addirittura accusato i suoi amici di avergli fatto cambiare idea su di lei Confessione che Bortuzzo è immediatamente smentito, al punto da affermare che Lulu non è mai venuta in contatto con i suoi amici e che questi ultimi sono felici se mi vedono felice In base a quanto possiamo leggere, pare quindi che le sue dichiarazioni siano totalmente diverse Manuel ha addirittura detto che Lulu, una volta uscita dalla casa dell'infiodito, si è trasformata in una persona del tutto diversa da quella di cui si era innamorato In mani sono stati gli sforzi di Manuel nel cercare di portare avanti questa relazione, e di non dare importanza ad alcune situazioni Però, con il passare dei giorni, il tutto è diventato insostenibile portando così la coppia all'inevitabile rottura Non resta quindi che attendere e scoprire se, Lulu, vorrà commentare quanto detto dal suo ex Ciao e ci vediamo nei prossimi video